la liturgia è semplicissima perché partiamo dall'inizio allora vabbè io ho avuto un'infanzia abbastanza con educazione molto rigida perché i miei genitori erano molto diciamo schematici e rigidi nella loro educazione comunque fuori da un paesino in Friuli in che anno sei nato nel 92 o 30 anni e io ero uno che se ne fregava molto delle mode delle robe così e quindi diciamo ero abbastanza preso di mira perché era una sorta di classico sfigato avevo tutti gli optional per essere lo sfigato tipo avevo l'apparecchio con gli elastici avevo l'acne pesantissima ero magrissimo diciamo era la vittima perfetta dei bull in più frequentavo l'oratorio assiduamente diciamo la domenica raccoglievo le offerte a messa e ero nel gruppo di animazione di quelli che erano gli eventi ricreativi della parrocchia e quindi questo lo giocava tutto a mio sfavore nell'ambito poi della vita normale dei ragazzi insomma perché diventavo la vittima più facile da attaccare per i bulli ma avevi degli amici in quel periodo sì sì i miei amici ne avevo pochi stretti che erano alla fine quelli che frequentavano tra virgolette il mio giro e anche loro diciamo erano un po ci eravamo trovati trasfigati dai abbastanza questi amici ci sono ancora oggi nella tua vita sì qualcuno magari l'ho perso un po però diciamo con tutti sono in contatto come vai a scuola a scuola ero molto bravo nelle materie scientifiche infatti diciamo il primo guadagno che ho avuto nella mia vita era in prima superiore ho iniziato a dare ripetizioni di matematica fisica e disegno tecnico quindi diciamo in quelle materie li avevo nove però poi diciamo pareggiavo con le materie umanistiche in cui medioca sono uscito col 74 dal liceo quando è che cambia qualcosa nella tua testa quando è che capisci chi vuoi essere cominci quella metamorfosi in un certo qual modo allora sinceramente non ho capito ancora adesso chi voglio essere sono uno che vive molto la giornata però il là che mi ha dato il change mi ha fatto passare a cose più trasgressive è stata una storiella d'amore di quelle che hai la prima storia d'amore 18 anni è stata la tua prima fidanzata 18 anni sì sì la prima fidanzata tra virgolette seria che è una relazione che è durata diciamo abbastanza per uno che ha 18 anni lei era più piccola di me però poi diciamo era stato mollato con dei pretesti stupidi da ragazzi nel senso che io non potevo permettermi di darle dei regali che magari quel ragazzo nuovo che aveva poteva darle cioè era molto basato sull'aspetto materiale bravissimo cioè all'inizio della relazione no poi verso la fine sì ho sentito sta cosa qua e questa cosa qua mi ha fatto scattare in me una cosa che forse negativa ovvero la ricerca ossessionata dei soldi quando è che prendi sicurezza in te stesso cioè cosa fai per farsi di sentirti più sicuro di te quando c'è stato questa rottura con questa ragazza c'è stato il fatto che mi sono rifugiato nella palestra è stato un anno della mia vita che era la quarta quinta superiore che ho passato praticamente passavo due ore al giorno in palestra era il mio sfogo riuscivo diciamo a buttare tutta la cattiveria che avevo dentro nella palestra ok quindi mi ero fatto il fisico in realtà neanche cercando di fare il fisico io lo usavo come sfogo ovviamente se uno fa solo quello poi il fisico mi era venuto come si dice che si era progredito cioè insomma vedevi dei risultati e ti piaceva e quindi così finisco il liceo con il fisico e poi scelgo di andare all'università non tanto perché lo volevo io perché come diciamo di base come dicevo in piace la logica mi piacciono le cose concrete però l'università non è mai stata cioè non avrei mai voluto fare ecco di mio se potevo scegliere io non avrei mai voluto fare però il sogno dei miei genitori era che finissi il liceo che andassi all'università. Lavoro dei tuoi genitori? Lavorano ancora? Non mi hanno mandato in pensione quest'anno ma faceva la vicepreside e mio papà invece prima lavorava in un'azienda in cui faceva cataloghi poi ha fatto l'amministratore condominiale e sempre stato appassionato di politica era in politica con la Lega Nord come segretario del comune dove abitavo io. Ma alla fine ti convincono ad andare all'università i tuoi lo fai? Sì perché era diciamo una scelta obbligata non potevo fare altro cioè o dovevo proprio litigare andarmene di casa o diciamo per mediare dovevo fare università quindi vado a fare università scelgo quella che mi sembrava un po' più sincero scelgo la facoltà dove pensavo che ci fosse più figa che era economia quindi ho detto economia è un po' molto open hai tante possibilità poi se riesci a finirla c'è una roba molto settoriale tipo non so medicina che devi fare per forza quello economia un po' generale puoi fare un po' di roba quindi la prendo per quello. Dove ti iscrivi? A Udina. Ok quindi vicino a casa? Economia aziendale sì sì e nel frattempo per mantenermi gli studi per pagarmi i miei sfizi oltre alle ripetizioni che ho portato avanti per tutte superiori facevo il cameriere. Questo per cominciare ad avere un'indipendenza economica? Certo per pagarmi sia i miei sfizi che università roba sì. Quali erano i tuoi sfizi a 18 anni? Io ho avuto sempre uno sfizio e quello di andare a prostitute. Ok. Quello è il mio sfizio e la mia dipendenza. A che età la prima volta? La prima volta che sono andato a prostitute penso che era a 14 anni. E l'hai sempre fatto in maniera protetta? Con le prostitute sì. Ok. Quindi dai 14 anni lì ti si come dire sviluppa un po' la libido nel senso la parte trasgressiva di te la cominci a sviluppare da quell'età? Sì sì sì. Ti voglio fare una domanda che mi interessa molto no? Il fatto di andare da una donna che può soddisfare te più che se stessa certo in scambio di denaro. Qual era la libidine vera mentalmente quando lo facevi? Cioè qual era la parte più eccitante? La parte più eccitante senza ombra di dubbio non era tanto poi il rapporto in sé che poi ti dico la prima volta che ero a 14 anni non ce l'avevo neanche scopato in realtà. Mi aveva fatto non so dove cosa posso dire. Come ti viene? Mi aveva fatto una pippa non so. E quindi in realtà era molto. Cioè vuol dire ti ha masturbato o un rapporto? Sì no no è un rapporto come si dice manuale. Ok. Masturbazione. Sì sì una masturbazione sì. Tra l'altro è una roba molto strana cioè non mi ero neanche spogliato e lei che mi diceva ma quanti anni hai ma se lo sapessero i tuoi non è che finiscono. C'è una roba assurda ma in realtà non era tanto diciamo l'atto in sé che mi eccitava. Anche adesso diciamo più più che l'atto in sé mi eccita tutto il pre cioè non so la ricerca poi quando è là poi è una roba meccanica. E come l'hai trovata? La prima? Allora la prima con 13 anni era adesso è molto più easy cioè adesso se uno vuole la trovo ovunque qualsiasi cosa uno piace. Tu dici grazie a internet? Sì sì sì. Ok. No è la prima con 13 anni i miei compravano il messaggero veneto. Ok. Che è un quotidiano. E c'erano gli annunci quindi? C'erano gli annunci e c'era tipo a Codroipo che era il mio paese diciamo un paese piccolo quindi c'era una. E non avevi paura a 14 anni che magari ti riconoscesse per strada quando eri con i tuoi genitori e facevi una figura strana? No? Non te ne fregavi? Certo ma mille paranoia ma poi non avevo neanche il cellulare quindi sono dovuto andare in una cabina telefonica cioè comprare la scheda telefonica. No no scusa c'erano le monete. Sono dovuto andare in una cabina telefonica in stazione e dirgli tipo arrivo a tre un quarto d'ora. Ok. Poi chiedergli il campanello c'era tutto c'era più tutta sta roba qua che mi citava che la roba. Ma sostituiva i tuoi rapporti sessuali con donne diciamo normali? Non che non siano donne normali ma inteso non a pagamento? No 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 ho avuto anche ragazze tra virgolette normali cioè non a pagamento. C'erano ragazzi che venivano con me perché gli piacevo e era una roba reciproca. Diciamo che la roba della prostitute è una roba che ti appaga senza fatica. C'è proprio una dipendenza secondo me come può essere la cocaina come può essere tante cose. Perché tu sai che non c'è dietro non devi coltivare una relazione non c'è un corteggiamento vai dritto al sodo. Non c'è fatica non c'è c'è solo tra virgolette piacere e finito il piacere non ci sono tra virgolette rotture di scatto cioè paghi un servizio. Quindi tendenzialmente tu hai sempre azzerato la fatica del corteggiamento perché prima le pagavi e oggi attraverso il tuo lavoro diventa quasi una calamita per conoscere sempre donne nuove ma la conquista vera no? Vai in un ristorante in qualsiasi luogo incroci uno sguardo cioè quella roba l'hai mai vissuta in vita tua? Certo certo assolutamente ma anche adesso sono fidanzato quindi in realtà quella roba lì l'ho vissuta anche di recente cioè di recente insomma con la mia ultima fidanzata però le vedo proprio come due robe diverse. Dove l'hai conosciuta la tua fidanzata? Uscivo con la sua migliore amica casualità ha voluto che nella seconda uscita con la sua migliore amica ci fosse anche lei e mi è piaciuta subito poi insomma c'è stata la fase del corteggiamento così cioè me l'ha fatta sudare e poi piano piano insomma è nata una storia d'amore. Allora ritorniamo ai 18 ti iscrivi all'università perché sai che c'è una grande quota rosa e ci sarebbero state anche più possibilità almeno quell'indirizzo di economia e che succede? Raccontamelo. Beh inizio a dare gli esami, li passo, poi alla fine me ne mancavano 3-4, al terzo anno ho mollato perché nel frattempo prima mentre facevo il cameriere come ti dicevo prima ho fatto il fisico eccetera eccetera quindi visto che mi era partita quella roba lì di far soldi l'avevo trovato tipo negli annunci su subito su quei siti dove di offerte di lavoro se non mi ricordo quei siti lì insomma ho trovato a una festa delle donne c'era tipo un ristorantino piccolo che cercava due camerieri per fare il giro pizza a petto nudo quindi è una roba molto stupida. Tipo cameriere sexy. Si bravo quindi prendo l'annuncio vado mi prendono e faccio sta roba e poi da lì inizio a propormi alle varie discoteche e vari club per fare tra virgolette ragazzo immagine cubista non so come. Si si cubista cioè animazione. Si animazione. Parto con i locali gay perché erano i locali più facili dove andare perché nei locali gay veniva più richiesta la figura del cubista uomo. Maschile ok. Quindi parto dai locali gay lavoro in tantissimi locali gay e poi ho iniziato a lavorare anche nei locali etero e come spogliare lista dopo diciamo un 6-7 mesi di rodaggio. Qui poi ho preso il via e poi lavoravo un sacco. E nei locali gay quando ti abbordavano come gestivi la situazione? Bah diciamo sono stato sempre uno molto open mind. Cioè alla fine un complimento di un uomo vale come un complimento di una donna. Certo io non sono mai stato attratto da un uomo. Ho avuto miglia possibilità lavorando anche nei locali gay ma anche nella vita privata però non è una cosa proprio che non mi attrae quindi non. Però ti dico non è che se un uomo mi palpava al culo. Si non ti infastidiva ma non hai mai provato una relazione con un uomo per vedere se ti piacesse o meno. No. Dai locali gay vai a fare animazione in altre discoteche? Sì sì. Nella tua zona? No ho iniziato a girare proprio tutta l'Italia. Ok. E poi diciamo l'expload l'ho avuto facendo la festa delle donne con i cento celle a Roma. Poi da lì avevo iniziato a collaborare con un gruppo di spogliare liste a Milano e ero andato a una fiera dell'erotica con questo gruppo di streetman. In che città? Era nel Senzano del Garda mi sembra. Si chiamava? Gardasex. Tipo il Miss Ex di Milano che c'era un tempo. Sì sì. Gardasex si chiamava. E lì un fotografo mi aveva proposto di fare un video amatoriale con un'altra ragazza che doveva iniziare o aveva appena iniziato a fare videoporno e però me l'aveva buttata lì come una sua diciamo un suo feticio. Ah per lui? Sì un suo trial volevo provare a fare sta roba però non c'era l'idea di metterlo in vendita così non è più una roba proviamo a fare sta roba. Ma proviamo perché lo voleva tenere per sé? Sì sì da quello che ho capito io sì. E ti ha pagato? Pochissimo. Però ti ha pagato? Sì sì ma io ce l'ho fatta tanto per i soldi l'ho fatto per la trasgressione di sta roba. Infatti l'ho fatta per questo una domanda. Quindi si sono invertiti i ruoli. Prima pagavi tu e a un certo punto hanno cominciato a pagare te questa cosa come dire ti piaceva? Sì anche se sono due robe diverse anche a livello di eccitazione c'è me eccita molto di più pagare che essere pagato. Quindi fiera fai questa roba e poi che succede? Cioè questo video esce a un certo punto? Questo video esce senza che lo sappia e mi ricordo che nel mio paesino c'è Villa Manin che è una villa famosa dove fanno tanti concerti anche Blanco va a luglio a fare il concerto lì quindi è una villa molto conosciuta in Italia Va in Friuli? Nel mio paese. Ah nel tuo paese ok. Facevano un aperitivo la sera lì tra i ragazzi del paese organizzato proprio nella corte della villa e io ero con i miei amici a bere una roba e arrivano tutti quelli che mi prendevano per il culo del paese a turno a dirmi oh sei un grande complimenti. Io lì per lì non sapevo che era uscito un treno. Ah sei un grande complimenti per il video. Sì però io non sapevo perché. Pensavo che fosse un'altra presa per il culo cioè che mi dicevano sei un grande per sfottermi capito? Poi al terzo che viene a dirmi sta roba gli dico ma perché mi dici sta roba? E gli metto ma vai a cagare dai lo sanno tutti ormai e dico cosa? E mi mostra il video. Anche i miei amici sono scioccati perché non l'avevo detto a nessuno sta roba no? E poi però il mio pensiero era porca te l'hai adesso uscita sta roba se lo sanno i miei ammazzano. Dico vabbè speriamo muoia qua non dico nulla i miei e due giorni dopo tipo scendo di casa avevo il cane per portare diciamo il cane a fare i bisogni. Mio padre dalla terrazza mi dice guarda se c'è posta e guarda se c'è posta e dico se c'è una lettera perché mio padre mi chiedeva e guardava se c'era posta e se c'era mio padre poi scendeva a prenderla ma come ogni giorno. Mio padre scende a prendere intanto porto fuori il cane e quando rientro a casa trovo mia mamma che piange e mio padre incazzatissimo perché era stata messa una busta nel mio buchetto delle lettere con un dvd con questo trailer di questo video e le locandine di tutti i locali gay in cui ero stato perché magari sapevano che mio papà era della lega magari era un po' sensibile su sta roba. Quindi quella sera un all in di tutti i tuoi segreti tendenzialmente. Sì sì. Dimmi un po' che parole usano e cosa ti dicono esattamente in quel momento? Allora le parole non mi ricordo bene mi ricordo mia mamma che piangeva e che c'erano delusi sia da sto video che ho fatto io e sia erano preoccupati per come diciamo tutto il paese avrebbe reagito. Poi mia mamma era in una posizione insomma faceva la vicepreside quindi doveva rapportarsi coi genitori dei ragazzi e con sta roba quale era in una posizione scomoda tra virgolette e poi gli pesava il fatto che oltre al dvd e a queste locandine c'era una lettera dove dicevano che io ho la delusione del paese che adesso i ragazzi avrebbero preso esempio da me quindi stavo rovinando i ragazzi del paese firmata genitori anonimi era sta lettera e quindi diciamo era un po' shock la situazione. E ti ha chiesto qualcosa ti ha detto ma ha intenzione di andare avanti? Come è finita la conversazione? Volevano che andassi via di casa cioè c'era un dialogo c'era io sono sbagliato e devo cambiare punto. Quindi che è successo da quel momento in poi? Lì vado in panico e inizio a cercare di far ragionare i miei e ha detto cioè non faccio male a nessuno faccio quello che fanno tutti solo mi filmo o mi filmano. È stata una roba di anni questo dialogo cioè non è che è stata una roba immediata. Quindi tu sei rimasto in casa ancora per anni con i tuoi da quel momento? Sì 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 sì. E quando è andata avanti vuol dire che riaffrontavi tu l'argomento lo riaffrontavano loro? Succedeva quando arrivava un'altra gossipata cioè in che momenti affrontavate questo argomento? C'era un problema di base non che avevo fatto sta roba più che altro per far soldi solo che mi sono accorto che nel business del porno non si fanno i soldi cioè nel business di quello che era il porno quella volta che avevo iniziato non si fanno i soldi perché venivi pagato a video e ti pagavano poco. Cioè potevi prendere la paga non so di due operai però quantifica? Non so potevi guadagnare duemila tremila euro al mese ma lavorando ogni giorno quasi. Ah infatti stavo chiedendoti non sei pagato a scena o a video non lo so? Sì sì a video a video ma prendi davvero pochissimo cioè vieni proprio pagato a scena ma i fissi anche adesso E quanto vale una scena nel mondo del porno da sconosciuto? Da sconosciuto veramente 200 euro quindi alla fine è un rimborso spese se pensi che uno deve andare comunque andavo a girare all'estero pagavo le mie robe alla fine non avevo niente. Allora da quel momento in cui succede quella conversazione dei genitori anonimi che mosse fai nella vita? C'è stata quella roba lì che dico va ormai lo sanno tutti in paese lo sanno i miei lo sanno i miei parenti lo sanno i miei amici quindi che ne faccio uno cioè una volta che esce un porno che ne fai altri mille cioè ormai l'hanno visto tutti quindi non è che cambia se lo vedono cento volte no? E capita proprio a caso dagli a breve un casting di Rocco. Io accetto di fare sta roba mi ricordo una roba ci pensavi se non lo farei mai era tipo un centinaio di ragazzi e sei attrici donne e la roba era ci sono queste sei attrici su dei divani in questo capannone e lui dice fate quello che volete fare poi c'erano tre che filmavano compreso Rocco faccio sta roba qua e poi Rocco dice che secondo lui era quello che gli piacevo di più. Ma andavate a turno o era in freestyle? No no freestyle freestyle. Non ti ha messo in imbarazzo? E' a tuo agio quel giorno? Quel giorno lì avevo detto questa è la mia opportunità quindi mi devo buttare basta. Bravissima se non c'è tempo per dire cosa faccio ci fai tutto quello che puoi se va bene bene se va male almeno sai di aver dato il massimo qui ho fatto così e me la son giocata bene perché alla fine insomma il risultato c'è stato. Quindi tu ti fai notare va bene questo casting? Sì questo casting va bene. E che succede poi? Poi vabbè sono stato uno sempre molto sgaio nella vita e quindi sgaio nel senso furbo. Cioè in certe situazioni so giocarmela bene. Ok. E quindi lì avevo dei miei contattini e faccio io uscire fuori degli articoli. Su quella cosa che hai fatto? Bravissimo. Fai in modo che se ne parli? Sì dicendo che Rocco mi ha detto che ero il migliore. Girano questi articoli la stampa inizia a parlare quindi esce sul giornale top sul famoso messaggero veneto dove esce proprio una prima pagina grande e la gioco bene sui social che erano all'inizio c'era facebook gioco bene la roba la rendo virale e grazie a questa roba qua mi chiama al Chiambretti appena Rocco esce dall'isola. Qui Rocco esce dall'isola ospita il Chiambretti e io vado lì invitato dall'autore di Chiambretti. Non era Rocco a volermi lì. Erano due o tre mie giocate che mi ha portato Chiambretti dice ecco voi l'erede di Rocco Siffredi e vabbè però poi lì lui. Però lui è stato carino ha detto sì lo conosco abbiamo lavorato insieme quindi non t'ha detto ma chi sei? Cioè non t'ha denigrato in quel momento? No ma perché poi c'è alla fine c'era del vero nella roba cioè nel senso lui aveva detto veramente che io ero quello che gli era piaciuto di più e ero andato poi a lavorare realmente con lui a Budapest. Fatto penso più di dieci video con lui a Budapest. Nella stessa sessione? Nello stesso periodo in cui? No era andato su due volte distinta a Budapest. Quindi si gira a macchinetta proprio? Sì sì. Cioè si sfrutta il tempo nel migliore dei modi? Sì 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 assolutamente. E lì c'era la vita da set giusto? Quella vera? Quella che vivono tutti? Bravissimo. Prima di andare da Rocco io ero stato anche in Russia a lavorare per liga al porno quindi top top case mondiali del porno. Io piacevo perché avevo un look diciamo teen che piaceva al mercato gay quindi io vendevo un sacco cioè all'inizio là erano tutti uomini che si abbonavano per me. Perché una persona gay paga un abbonamento per vedere degli etero mentre fanno sesso? Sì la maggior parte dei gay guarda i video etero. Ok questo non lo sapevo. Non per vedere le donne ma per vedere il maschio etero. Cioè secondo me eccita di più il maschio etero perché è una cosa, tutte le cose irraggiungibili piacciono di più alle persone cioè come le macchine uno piace la Ferrari che non potrà mai permettersi magari no? Quindi lavori per questa casa di produzione russa importante in concomitanza più o meno lavori con Rocco a Budapest? Sì sì. Però li capisco uno che sogna di far soldi è svanito. Perché in quel mondo sarebbe, con quella modalità sarebbe stato difficile? Sì sì sì. E poi due scopro che è un mondo pieno di, cioè che per stare al passo devi per forza doparti. Cosa vuol dire doparti nel mondo dell'hard? Prendere dei farmaci che ti permettono di avere un'erezione che dura otto ore perché ci gira otto ore di fila e quindi devi avere, ce n'è che puoi permetterti di non avere l'erezione perché diciamo il medicinale più usato da penso il 99% degli attori top è il coverjet che è un'iniezione che ti fai alla base del pene. È comunque una roba dolorosa, una roba schifosa. E lo hai fatto anche tu? No, ho preso del Viagra per stare ai ritmi. Ah quindi è più potente ancora? No, il coverjet, la differenza, mentre Viagra e Chalice sono diciamo dei vasodilatatori cui ti aiutano l'erezione però comunque devi essere eccitato. Cioè se io adesso mi prendo il Viagra mentre parlo con te non ti fa niente, non mi viene duro. Mentre il coverjet ti fa una reazione meccanica diciamo che non c'entra niente con la mente. Cioè se mi faccio adesso il coverjet ho il pene duro anche se tu muori qua. È una situazione assurda. Ok, sì, sì, sì. È ovvio che io che avevo solo il Viagra era come giocare capito? Inter, Codroipo con gli altri attori. Ok, e giocartela. Sì. Quindi vivi quella vita lì per un periodo, cioè quindi in un certo qual modo. Sì, ma poi fa schifo anche a livello umano. Cioè vai in queste case, che sia qualsiasi produzione che sono stato grossa, vai in queste megacase dove tutti dormono in camere comuni e non c'è il mangiare perché sono sempre posti in periferia, non sono in centro di città, quindi non è che dici scendo, mangio al ristorante. Ci sono questi frighi che hanno solo tipo i prosciutti, quelli confezionati e a volte se finiscono, non li trovi, quindi puoi restare senza mangiare tranquillamente. Ti dico robe che ho vissuto io. E poi il lato umano non c'è, nessuno ti chiede come stai, c'è un pene, una vagina, devi funzionare perché sennò la gente perde soldi, perde tempo. Il mondo del porno adesso non è più il film, ma è più scene facciamo, più guadagniamo, quindi sì, è finito. Adesso il porno secondo me è finito ormai, quel porno lì, con l'avvento di OnlyFans, con l'avvento dell'autoproduzione, è finito. Quindi poi io insomma vedo questa roba, vedo che mi fa schifo proprio il porno, però in questo periodo, diciamo breve, in cui facevo porno, stavo scoprendo i social e stavo cercando di capire come funzionavano e inizio a lavorare sui social, quindi ho iniziato a fare delle canzoni trash, di cui adesso anche mi vergogna. L'uso dei social era per amplificare te stesso come personaggio nel mondo del porno, andando in un mondo in cui il perimetro era molto più ristretto, quindi non potevi far vedere un pelo pubblico o qualsiasi cosa, ora per avere una carriera parallela e provare a buttarti nel mondo, come dire, del content creator, a prescindere dal porno, cioè qual era l'obiettivo quando usavi i social? L'obiettivo che avevo quando usavo i social era quello di cercare un modo di prevalere nel settore, cioè diventare... Nel porno però? Sì, sì. Ok, quindi avere un amplificatore, avere più eco, cioè giocartela con un excursus diverso rispetto a tutti gli altri. Sì, l'obiettivo era quello di arrivare a dire quando uno pensa al porno pensa a Max Felicitas in Italia, quello era sempre stato il mio obiettivo. Ti interrompo per chiederti perché ti chiami così? Io mi chiamo Edoardo, veramente, però all'inizio quando facevo il cubista nei locali gay mi serviva un nome d'arte per mascherare perché tenevo nascosto, nessuno sapeva, né gli amici, né nessuno, quindi mi chiamavo Max. Poi andando avanti, iniziando a lavorare di più a un'agenzia mi aveva detto no guarda serve che metti un cognome perché nelle locandine scrivere Max spogliare lista fa cagare e allora gli a caso ho detto Max Felicitas, qui in realtà è nato a caso, poi Massima Felicità, vabbè ma quello ha un significato che ho dato dopo per cercare di dargli un senso ma in realtà a caso. Quindi ritornando a quello che mi stavi spiegando un secondo fa, usi i social e dici voglio usare i social per far sì di essere il sinonimo quando uno pensa a un pornattore italiano, magari non per forza italiano, deve venire in mente il mio nome d'arte. Sì, sì, sì. E quindi le canzoni trash funzionano? Ti portano a quell'obiettivo o cambi rotta? No, le canzoni trash sono devastanti per quanto riguarda la tua credibility, cioè se tu fai canzoni trash per tutte le persone sei uno stupido, però sono le cose che arrivano più velocemente alle persone, adesso forse meno, però ai tempi quando facevi un prodotto trash arrivava a tutti, cioè facevo 7-10 milioni di visual su Facebook. Quella roba lì mi è servita per andare intanto virale, poi vabbè mi ero affiancato di pre ai tempi. Affiancato vuol dire che ti hai intervistato o lavoravate addirittura insieme, lui era una sorta di tuo mentore sui social? A lavorare insieme no, facevamo i video assieme, cioè queste canzoni, giravamo assieme, facevamo queste robe qua. Però tu capisci che non è quella la strada giusta? No, io a un certo punto, allora con lui io sono sempre stato uno che non si è mai drogato, non ho mai provato neanche a fumare una sigaretta. Tutt'ora è così? Tutt'ora è così, e poi lui è arrivato a un punto dove aveva iniziato tipo a fare promozione di droga, diceva dovete drogarvi, è bello, gli ho detto guarda Andrea come persona ti rispetto, sei un amico, però se tu vuoi fare sta roba, io proprio anche di mio sono completamente l'opposto. Quindi hai preso le distanze? Sì, ma non è che abbiamo litigato. No, 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 tu gli avete scambiato un'opinione. Sì, sì, lui mi ha sempre rispettato come persona, ha sempre rispettato lui, però ho detto tu vuoi fare quella roba lì, vuoi fare proprio robe pesanti perché ti piace essere insultato dalle persone, fallo e prendo la mia strada e quindi da quel momento lì non abbiamo più fatto nulla insieme. Però devo dirti la verità, ho imparato tante robe di lui per quanto riguarda diciamo la viralità, come porsi con le persone, perché come tutti lui è un personaggio poi ho di fuori un'altra persona, no? Quindi diciamo mi ha dato degli input sui social. E quindi come viri, cioè quando è il momento in cui senti di avere un pubblico, di potertela giocare? Ci sono stati attimi di down in cui dicevo no boh, devo fare altro. Mi ero messo anche con un mio amico del mio paese, ha detto apriamo un'azienda che fa siti web, io non sapevo farli ma lui sì, ha detto io vado in giro a chiedere e tu li fai. Però diciamo poi c'è stata una visione, ho iniziato a analizzare un attimo il mercato, ho detto queste case di produzione guadagnano quei siti in abbonamento, ma se lo facessi io un sito in abbonamento? Cioè della serie se i video me li girassi per me stesso? Bravissimo, ho fatto questo pensiero qua, quindi ho iniziato a pensare sta roba qua, mi sono messo lì e facendo questo sito qua, io avevo 7000 follower su Facebook, tra l'altro non avevo neanche prodotto io, mi avevo trovato una persona che era mia fan, voleva fare la produttrice, aveva pagato lui, però avevo visto i conti e ho detto siamo andati alla pari, cioè non ci avevamo guadagnato però avevamo tornati a zero. Però hai detto sta generando qualcosa, se avessi una community più folta magari convertirei ancora di più. Sì, e io ho detto se me la studio io, mi metto lì, possiamo fare di più. Allora ho lavorato di più sul personaggio, ho lavorato di più su Instagram che stava iniziando a partire, vabbè è stata una roba di anni. Poi 3-4 anni fa ho aperto il mio sito, ho fatto un investimento, ho aperto il mio sito in abbonamento e lì appena ho aperto ho detto faccio sta roba qua, se va va, se non va mollo faccio altro. E quando ho aperto questo sito qua ho trovato la chiave giusta e alla fine sono stato diciamo un precursore di OnlyFans. Chiaro sei arrivato prima. Sono arrivato prima di tutti. 3-4 anni fa, ma nel frattempo come ti mantenevi fino a quel giorno? Di cosa campavi? Eh, se mai facevo spogliarelli, cameriere, lavori saltuari così, ero andato anche in centro commerciale a dar le rose alle donne, ad una festa della donna. Fin quando non apri il tuo di sito? Giri video? Comunque stavi provando? Sì, giro video un po' di qua un po' di là, inizio a caricarli in giro per conto mio con magari ragazze che volevano fare porno, avevamo visto qualche articolo su di me, quindi lo giro però lo metto gratis, c'è stavo studiando un attimo quali erano tutti i metodi. Quindi non reclutavi ragazze, ti scrivevano loro e da lì le incontravi e giravi. Sì, di base è sempre stato così, sì. È difficile che tu scrivi a uno e gli chiedi a far porno e qua ti dica di sì, c'erano sempre le donne a decidere. Però intanto c'era una prima conversazione e poi da lì te la giocavi diciamo. Sì, sì, sì. Ma tu ci hai messo la parte dell'incontro, ho visto che sui social incontri la ragazza. Sì, quello è venuto dopo, all'inizio era solo il video così, poi ho visto su Instagram dei vari influencer che erano nati i sondaggi, ho provato a fare una storia diciamo con questi sondaggi, ho visto che è esploso e la gente gli piaceva interagire con sta roba, li trippava. Cioè il sondaggio mostravi una ragazza, cioè com'è che facevi la tua call to action? Sì, inventavo delle trame che faccio ancora oggi, non so, c'è questa ragazza in metro, la filmo, ci provo o no? La gente dice sì o no? Poi chiedo cosa devo dirgli, la gente mi scrive, dili questo, dili questo, dili questo, ok? Quindi vado lì e poi diciamo il fine della storia è che io arrivo alla conclusione con la tipa che mi chiude in camera o in macchina e quindi poi se uno vuole vedere cosa è successo e deve abbonarsi, quindi la gente si intrippa e poi si abbona. In questa roba è stato il precursore, penso a livello mondiale, perché io lavoravo con i top, con Giordi e il Nino, lavorato eccetera, loro sono arrivati anni dopo me sta roba. Adesso sono tutti autoproducer con OnlyFans e quindi adesso bisogna inventarsi qualcosa di nuovo perché sto gioco sta finendo. Perché su OnlyFans fai la subscription solo sulla persona, quindi non è la piattaforma, ma su ogni singola persona, ma è la persona da sola che arriva fino all'autoerotismo o è più spinto poi a vedere una scena di sesso? Su OnlyFans è una piattaforma libera, è un po' come avere Instagram e tu sul tuo OnlyFans puoi caricare quello che vuoi, puoi anche solo caricare foto di te vestiti in jeans. Però esistono anche le scene a modi film? Certo, ognuno può caricare quello che vuole e metterlo in abbonamento, a pagamento oltre all'abbonamento, può fare quello che vuole, è molto libero. Poi su OnlyFans è anche la possibilità di chattare con i fan, adesso tutte le case diciamo pornografiche, a parte le due o tre top, sono tutte fallendo. Perché io ho visto che anche tante star internazionali, anche nella musica, hanno aperto OnlyFans e hanno detto ho fatto un milione in un giorno ma non fanno porno, quindi non è solo quello OnlyFans. No, magari queste mettono un po' di cose un po' hot, tipo una foto in bikini con una posa un po'... Cose che normalmente non ti fanno vedere attraverso i social? Bravissimo, bravissimo. Ok, quindi se vuoi l'upgrade paghi una sottosizione. Sì, 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 sì. Solo che sta roba qua ovviamente secondo me è un boom, poi ovviamente la gente capisce che non ha senso pagare per le foto di una persona in costume, comunque c'è tantissima offerta, quando l'offerta è tantissima ovviamente la domanda si divide e i prezzi calano, no? Quindi al momento tengo tanto botta perché mi sono costruito in parallelo al porno un personaggio, quindi è quello che mi fa tenere botta. Quando faccio una roba io, cazzo, è la roba di Max Felicitas, c'è tutte le ragazze nuove vengono da me, a parte perché le tratto benissimo, ma anche perché sanno che sono la vetrina top che c'è adesso nel porno in Italia. Quindi che potrebbero lanciarsi poi anche loro da lì, acquisiscono quella visibilità. Sì, ma oltre alla visibilità acquisiscono soldi, c'è nel senso la ragazza che lavora con me poi impazzisce su OnlyFans di abbonati nuovi. Quindi tutte le ragazze che lavorano con te hanno un profilo su OnlyFans? Sì, ormai sì. Non sono tutte attrici, anzi magari la maggior parte non lo sono per nulla. No, ma l'attrice porno non esiste più, cioè ormai chiunque può essere un attore, un attrice, perché io poi ho litigato con Rocco anche pesante, lui ha sempre detto che io non sono un porno attore, però alla fine quello che penso io è qual è la definizione di porno attore, cioè non esiste, ormai chiunque può essere un porno attore, basta avere un cellulare, ti riprendi mentre scopio, mentre ti masturbi e lo carichi e cosa sai se sei un porno attore? Poi non riesco a capire qual è la differenza tra professionista e nonno. Ho visto un tuo video che si chiama La mia storia, mi sembra tra parentesi in breve, dove tu ti sei definito il Favijai di Pornhub, una roba così, giusto? No, però in effetti capisco l'esternazione, nel senso tu dici gente come Rocco, come tutti quelli di un tempo, comunque per produrre costa soldi, no? Certo, certo. La troupe, il set, mentre tu dici lo faccio da content creator, cioè me lo faccio molto self-made, cioè prendo il telefono o qualsiasi altra roba e ti vado a immortalare un momento in cui, come dire, faccio sesso con un'altra persona. Assolutamente, ma ho avuto una visione, diciamo, anticipata a quello che era il mercato, cioè il mercato è sempre stato secondo me, ma perché anche io cercavo quando mi dovevo masturbare i contenuti amatoriali. sulle piattaforme libere. Sì, 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 i contenuti cinematografici mi hanno fatto sempre schifo perché li ritengo e sono troppo fake. Troppo fake, sì. Ho portato, diciamo, io che comunque era un po' visto come una figura pro perché comunque avevo lavorato in quel mercato, mi sono spostato a fare roba amatoriale e quindi la gente è arrivata perché è quello il taglio che piace alla gente ed è per questo che OnlyFans sta esplodendo come piattaforma. Sì, sì, come il mondo del content creator dove si immedesimano perché vivi uno spaccato di vita come potrebbero avere loro in quel momento. Sì, 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 assolutamente. Quanto guadagni oggi attraverso il sito? Un anno e mezzo fa mi sono tolto uno sfizio, mi ho preso una Maserati e l'avevo presa con un mese di lavoro per dare un'idea un po'. Però insomma, poi è variabile, ma comunque adesso faccio tante cose oltre al tono. Esatto. Quali sono oggi le tue linee di revenue? Non tanto nel quantificarmi quanto ti possano rendere, ma quali sono quelle che ti danno un indotto? Cioè, il sito è la maggiore fonte di guadagno che tu hai ancora oggi? Sì, sì, il sito è fonte top. E dimmi gli altri rami del tuo business, del tuo personal branding. Ho creato un rasoio per le palle. L'ho comprato io però. Sì. No, ma perché in effetti è utile. Hai venduto tanto? Sì, sì, sta andando un sacco. Non l'ho fatto tanto per guadagnare, ma più per personal branding. Va, perché comunque ogni giorno vendiamo. Però ovviamente il rasoio, a differenza di un prodotto che può essere il mio video, che ha costi quasi zero, il rasoio ha dei costi, che ha la spedizione, il rasoio in sé, il sito e tutto. E questa è una linea di revenue. Un'altra oltre al sito? Beh, tutte le sponsor che faccio sui social. Ok, quindi i tuoi social sono un media e tu hai dei brand che oggi ti pagano per poterli promuovere. Assolutamente, sì. Perfetto. Poi ho visto che fai anche robe nei locali, non più animazione, ma tipo DJ. Adesso ho iniziato da pochissimo, ho preso lezioni da DJ e sono partito con i DJ set. Ma più che altro quello l'ho fatto perché avevo richiesta di locali che mi volevano come ospite. Come linea imprenditoriale ho detto se vado solo là a fare le foto, mi brucia una volta, faccio sette locali, poi è finito il personaggio, è finito tutto. Se vado là con un contenuto, un locale può dirmi anche, a cazzo funzioni, comunque mi riempi la serata, ti chiamo anche l'anno dopo o due volte l'anno. Sì, sì, perché mi porti contenuto. Poi adesso sto lanciando un sito sul fitness, sempre in abbonamento, quindi stile al mio sito web. Quindi ho preso delle ragazze molto belle e mi alleno con loro, magari loro un po', diciamo un fitness un po' erotico. Quindi ragazze che però non farebbero mai porno, non hanno OnlyFans, non hanno nulla. Quindi giocate in modo un po' piccante tra di voi, ma poi c'è un vero allenamento o no? No, non giochiamo in modo piccante tra di noi. C'è un vero allenamento, proprio con tutto il programma fatto da un personal trainer, quindi uno si vede, diciamo, l'allenamento in streaming, diciamo, può seguire l'allenamento e vederlo, e in più vede delle ragazze che non potrà mai vedere, magari in costume, ballare, eccetera, ci sono anche dei balletti, delle cose, e li potrà vedere, qui diciamo, una duplice funzione. Cioè uno può sia allenarsi che masturbarsi. Quello che ti ha dato il tuo lavoro un po' lo stai spiegando, no? Cioè ha pagato tutte le tue insicurezze, ti ha aiutato a raggiungere dei grandi obiettivi, quindi ti ha fatto maturare da tanti punti di vista. Cosa ti ha tolto il tuo lavoro? Cioè questo lavoro, in quel mondo lì, hai mai avuto la sensazione che ti avesse tolto qualcosa di prezioso? Beh diciamo che nel mio caso non mi ha aiutato a togliere la mia dipendenza, perché è una vera e propria dipendenza dal sesso, che non sono ancora riuscito neanche con gli specialisti. Spiegami cosa vuol dire avere questa dipendenza, nello specifico. Guarda, io non mi sono mai drogato, ma penso sia molto simile all'essere dipendente da qualsiasi sostanza stupefacente, cioè nel senso hai delle crisi di astinenza che riesci a riappagare solo diciamo avendo il rapporto, no? E quindi il modo più facile per gestire queste crisi di astinenza, chiamiamoli così, è andare a prostitute, perché è il metodo più veloce per ottenerlo. Sì, per soddisfare, per appagare quel momento. Bravissimo. E nel mio caso il mio lavoro è un po' come, diciamo per un cocainomane, diventare spacciatore. Quindi non so quanto mi aiuterà il mio lavoro a uscire da questa mia problematica. Ma perché lo vivi come un problema? Facciamo un esempio, ti succede tutti i giorni? Sì, sì, assolutamente. Io mi sveglio la mattina e penso al sesso. Vado a dormire pensando al sesso. Ma è una cosa brutta? Mi porta via la giornata, cioè passo le ore a masturbarmi, diciamo mi toglie tanto tempo della mia vita, quello sì. Cioè secondo me è un vero e proprio problema, cioè non è una roba che dici cazzo che figata. E tu dici che però ne hai parlato con, non so, un psicologo, un analista. Sì, sì, assolutamente. E quali sono state le loro risposte? Le loro risposte sono sempre state tutte, vabbè la prima cosa che devi fare è cambiare lavoro, e però quello è impossibile o me la sento adesso di farlo. Però diciamo la risposta principale è finché non smetti di fare il tuo lavoro, cioè finché non riesci a scendere. Sì, nel senso, finché sei circoscritto in quel mondo lì, ovviamente quella tentazione al peccato ce l'hai. Ma io non so quanto sia veramente una tentazione al peccato, cioè secondo me la soluzione è non viverlo più come un problema. Se ti svegli la mattina e hai voglia, fa parte di te. E se accetti quella cosa, probabilmente la vivrai in modo... No, no, assolutamente. Però un conto è se è una voglia normale, un conto è se è una voglia, diciamo, che ti accorgi che è compulsiva e che potresti tranquillamente farne a meno. E a un certo punto si innesca un meccanismo, come penso nei cocainomani, che non è la voglia in sé di avere il rapporto, ma diventa quell'abitudine. Quella routine? Bravissimo, devi fare quella roba lì per forza. Quindi diventa... Spieghami un'accezione negativa di questo. Cioè il tempo che profondi nel pagare quella roba tra la masturbazione e le ricerche che fai, i video che guardi... I soldi che spendi, che sono tantissimi. Padre della prostituzione? Sì, sì. Tutti i giorni? Sì, sì. Poi i rapporti con le persone, cioè ti bruci... Comunque con la mia fidanzata ci sono tantissimi alti e bassi per questa roba qua, c'è che io non riesco a avere un focus nella vita sessuale, cioè devo far mille cose, ma anche magari dettate dal mio inconscio, che quando sono cosciente dico ma che cazzo ho fatto? Quindi in quel momento quando sei in estasi perdi Lucita? Sì, sì, assolutamente sì. Ma la tua fidanzata, dove si colloca in questo racconto? Nel senso che la fidanzata normalmente dovrebbe appagare una parte che in teoria ha due parti. La mia fidanzata è, diciamo, il mio salvatore, quello che ogni tanto mi dà, diciamo... Un freno. Sì, un momento di lucidità, mi dice, ma ti rendi conto di che cazzo stai facendo? E ti senti quando fai questo di mancarle di rispetto o non hai questa sensazione? Beh, ovvio, sì, però è più forte di me la roba. E lei lo accetta? Lei, diciamo, nì, cioè, lei vorrebbe che cambiassi, sta cercando di aiutarmi, ma non è così semplice, secondo me. Da quanto tempo state insieme? Un anno e mezzo, tra altri bassi, tu distingui far l'amore e fare sesso? Sono due cose diverse? Beh, ovvio, ovvio. No, sono due robe diverse. Con lei fai l'amore? Certo, sì. Mi spiega la differenza tra le due cose dal tuo punto di vista. Allora, fare sesso è fisiologico, far l'amore mentale è passionale, diciamo. Fare sesso per me è proprio, tra le qualsiasi, svuotare le palle, una roba fisiologica, meccanica, come la masturbazione. Ogni contenuto che ho visto tuo, che fosse datato o recente, sei sempre preso bene, come si dice a Milano, sempre super sorridente, anche oggi. Ogni volta che ti vedo in qualsiasi frammento di vita, sei positivo alla vita. Qual è stato il momento peggiore della tua vita? Il momento peggiore, c'è quello che mi ha fatto soffrire di più, penso sia stata la morte di mio nonno, ma ero piccolo. Quello mi ha proprio segnato. Avendo realizzato più cose nella tua vita e avendo fatto esperienza, quindi adesso magari ti è un po' più chiaro, come prima magari dicevi il mondo del porno, vorrei fare i soldi con quello e ti sei reso conto che con quella dinamica era complicato, quindi hai trovato sempre nel stesso mondo un'altra chiave e sei riuscito a realizzare questa cosa. Qual è un sogno che hai veramente possibile? Cioè un qualcosa che vedi percorribile che vorresti raggiungere? Mi piacerebbe diciamo riuscire a mettere da parte una soma che mi permetta di vivere di rendita e poi aiutare le persone che gli piace diciamo l'ambito artistico, creativo, a realizzare i propri sogni. Per fissare l'intervista di oggi ci abbiamo messo un po' perché mi spiegava la persona con cui tu sei stato in contatto che hai avuto un problema alla voce perché hai scoperto di avere qualcosa e quando ti ho chiesto la cosa più negativa che ti fosse capitata non me l'hai elencata quindi vuol dire che intanto la prendi benissimo come ogni singola cosa della vita però me lo racconti questo episodio? Mi sono accorto che praticamente stavo perdendo la voce un anno fa e quindi mi sono accorto di questo problema che era praticamente una formazione benigna però molto vicina a diventare maligna e l'ho scoperta in tempo a caso e basta ho fatto un'operazione adesso devo stare sotto controllo però diciamo per come vivo io la vita l'ho mai vista come una come un ostacolo cioè no magari adesso lavo la voce così tipo da vecchio ho rapato per sempre però ce n'è che la vedo come un ostacolo anche perché se la vedessi come un ostacolo mi sarei depressa eccetera invece ho ho ribaltato tutto ho lavorato per tre in sto periodo perché anzi ho detto magari prima lo vedevo negli altri cazzo può finire domani e invece adesso ho detto cazzo può finire domani veramente quindi aspetta che accelero ancora quindi in realtà ho visto così allora ti direi che siamo giunti al termine con un rito finale che è una cosa che uso chi ascolta il mio podcast me la sente sempre ripetere ogni volta ed è un case dove all'interno ci sono delle cose molto importanti un foglio di carta e una penna dove ogni anno scrivo a me stesso delle cose che desidero costruire ricevere dalla vita qual è il Luca di domani il Luca fra tre sei, nove, dodici mesi e quindi ti do questo case dove all'interno hai quello che serve a un certo punto adesso usciamo tutti e ti lasciamo da solo quello che è il tempo necessario scrivi una lettera breve a te stessa con degli obiettivi io te la spedirò fra un anno mi scrivi solo l'indirizzo quindi nessuno potrà mai aprirla e tu riceverai questa busta nera con scritto one more time quindi ti ricorderai e tendenzialmente fai un bilancio è vero che è bello vivere la giornata è vero che tu vivi la vita come se dovesse finire domani quindi con quell'energia incredibile però è anche bello magari avere dei piani ad esempio tu mi hai detto io vorrei curare la mia dipendenza potresti magari scrivere non il grande risultato o già un tassellino in più per sentirti soddisfatto visto che fino ad oggi non so quante volte tu hai fatto un bilancio ma se tu dovessi guardare gli ultimi anni della tua vita beh ti dico bravo cioè comunque tu da non avere niente anzi avere tutti contro quindi è ancora più difficile che avere niente hai costruito un sacco di cose cioè sei qua in uno studio dove la prima cosa che mi hai raccontato è che vai a prostituta dove ci sono delle donne sedute di fronte a noi senza vergogna cioè secondo me sei uno no no sei uno sei tosto sei forte credi nelle tue cose e ma sì ma c'è nel senso è sempre stato uno molto open mind e libero c'è nel senso se uno fa una cosa la fa realmente solo quando la può raccontare agli altri se no non la sta facendo quindi io mi sento libero di raccontare poi tutto quello che faccio non faccio mai male a nessuno in realtà viviamo due vite tutte le persone una che è la nostra vera e una che è quella che raccontiamo agli altri quella che mostriamo agli altri però chiunque dal prete allo spacciatore hanno una vita che non raccontano neanche il loro migliore amico questa è la realtà e io la so perché vivo in un mondo in cui so i segreti delle persone e io ti ringrazio e quindi sei stato generoso nel senso che appunto non ti sei risparmiato hai parlato di cose secondo me super interessanti per chi ascolta di un mondo che non è poi così tanto semplice da tradurre anzi la nuova modalità con cui tu hai affrontato quel mondo con la quale affronti la tua vita quindi per me è stato arricchente ti ringrazio molto grazie a voi grazie a voi grazie a voi